a me significa qualcosa di importante perché è il punto dove tutto ha iniziato quindi praticamente sono tornato a casa poi sono contento di fare parte di questa squadra di avere l'opportunità di giocare con dei giocatori forti è importante spero di crescere molto molto su tutti i piani con queste squadre mi ricordo alla mia prima partita era rubiana che per me era un colpo entrare in campo così giovane avere l'opportunità di giocare con queste squadre vincente è un ricordo che mi che metterò per sempre in questi primi giorni sono stati fantastici gli allenamenti normale c'è la fisicità c'è la lettura c'è il spaccio ci stiamo preparando benissimo quindi a me fa piacere sì sì sono sono dei giocatori che praticamente sanno già quelle che sentino gli altri giocatori in campo quindi ti aiutano tanto sui su tutti i piani ti parlano quindi è una cosa positiva e a me mi piace mi piace giocare con questi tipi di giocatori che ti danno l'energia anche non parlando ma facendo dei giocatori bassi giocatori digивают gallặciem Findérie, cane scherzate puoi her sul дивiział passa arablo un mandato